no no cosa non hai sentito? si ho sentito ecco appunto anche in quello siamo scurati uguali ma non ha senso quanti pezzi d'ossidiana figlio? ho trovato una caverna però non ci posso... grazie creeper grazie caro creeper ma che gentile gentile il creeper l'ho usata due a scavare e ce l'aveva sotto ma occhio amore non hai portato neanche un secchio ah ce l'ha allora vabbè ma è un vile si ma qui c'ho troppo... scusa io direi che quasi quasi avrebbe più senso se io mi facessi un un'uscita e mi faccio un un'entrata esatto c'è un altro creeper basta creeper uno me l'ha già fatto scoprire la strada ho capito che c'è lì sotto ho capito ho capito no non era convinto che avessi capito ok lì sotto tu l'hai capito invece a me fosse andato nella lava il creeper come meno due? perché meno? che è sta storia? perché va meno? no non l'hai capito ma sta facendo il suo lavoro l'altra l'ha fatto alla fine io spero che serve per velocizzare invece qua non si capisce nulla allora io dovrei avere del legno no? non ho del legno io non so come fa a prendere l'ossidiana c'è la lava sotto poi da qualche parte c'è ecco il legno prendiamo il legno facciamo così facciamoci la workbench il workbench benissimo workbench vediamo si che non abbia legno a quanto pare si è possibile cioè con tutta sta roba qua non ho legno io cioè non ne ha senso è realistico solo io che non bah vabbè lasciate stare allora vedete io qua l'ho lasciato a casa vabbè lasciam stare ma dove l'ho messa? ma non avevo ma non ha senso io ho troppi oggetti quelli che mi servono allora prendiamo legno mi servono due là presi due di legno mangiamo mangiamo buono il legno bene preso ok 1 2 3 4 5 6 7 8 io ho dell'ossidiana ora possiamo appoggiare un pochino di oggetti e per ora appoggiamo tutto perché non ho voglia di scegliere che cosa prendere che cosa no però non ho non ho roba quindi direi che la cosa più sensata da fare in questo momento è tornare a casa e venire a aiutare la fidanzata che sta scavando l'ossidiana per il tuo bene c'è anche del legno brava brava amore brava del ferro volevo dire di ente di amante occhio stai molto lontana mi raccomando stai molto lontana da quello che devi fare prendo anche giusto due fiorellini nel caso servissero questi gialli allora là fiorellini piccolini ma che sballo cosa stai cantando se non fosse che lo so mi preoccuperei ma stai facendo anche tu appunto io direi di prendermi questo che qua vado a fare un salto giù in miniera e però mi servirà anche un pochino di oggetti qui ho dei picconi già pronti da finire dubito sì ce ne abbiamo ne abbiamo un pa io ne abbiamo un sacco di picconi perfetto ho preso un bel po' di picconi e vado torno giù in miniera torniamo giù in miniera cercami come ti cerco vieni con me perché perché mi vai compagnia ma eeeh come faccio se no non mi carica il chunk laggiù e non funziona la spianificazione speriamo che nel peggiore dei casi la farm o il combustion engine è tutta roba che ci serve non è da dire che abbiamo fatto il pre sbaglio l'ossidiana comunque mi fa schifo è noiosa eh nooo eeeh c'è cos'è il god prendiamo un po' di god non posso non è il no va bene non importa e non so neanche se sotto c'è l'acqua ho già scavato i due per nulla che noia sta funzionando guarda è funzionato c'è stato un sacco di droni ma che te ne fai che ne so ho lasciato la pia la pia è vissima dove ero io ah giusto qua sta funzionando dove funziona che ti devo dire no di nuovo quella che si è salvata però vai che si è salvata allora qui ha fatto qualcosa che possa anche solo minimamente far credere che stia lavorando si direi di si lento come un ma giusto ma tutta la roba che raccoglie me ne ha fottuto un altro scusate il termine ma tutta la roba che raccoglie è persa eh tu trova si chiedo non lo so tutta la roba che raccoglie è persa qua dove due arba com'è che è più sotto com'è che questa lava non finisce mai perché non non so dove la possa lasciare tutta sta roba perché penso che forse la distrugga il che non è non è intelligentissimo però era solo per velocizzare beh ok era una prova non importa ora smetterò di usarla comunque almeno abbiamo provato a fare il combustion quindi mi va bene lo stesso ok direi che adesso dovrei mettermi tutta la roba interessante che trovo dovrebbe mettermela qua allora intanto appoggiamo sta roba qua via via prendiamo la pala prendiamo prendiamo via via e altro perso perso un altro un altro ah terribile allora vediamo se la roba poi me la mette vede dovrebbe mettere in automatico quando la prendo in quel pacchetto è un bruttissimo posto per l'ossidiana vedo se ne favo un altro via ma e tutta la roba che roba tutti quegli oggettini lì quali oggettini il latin la sprand e anche il ferro vedete io adesso ho preso del carbone ma qui non ce l'ho perché si è andato tutto a ficcare qua dite allora beh però se prendi gli altri oggetti magari invece li mette vedete io non ho copper nell'inventario quindi a sto punto il copper potrebbe mettermi nell'inventario vediamo dov'è lo mette in automatico qui dentro tutte le cose anche ci sono pochi posti però di certo sono comunque 15 posti in più che potete avere quando andate a minare a minare pie piove mamma mia che fastidio aia che fastidio anche tu una freccia nel ginocchio già ne avevo le scatole piene le ginocchia piene ormai si allora che abbiamo un sacco un sacco di gallerie e la terremo sta galleria avremmo il castello praticamente sopra sta galleria quindi direi che no no cavolo no mi hai sposo un clip alle spalle dai perso tutto perso tutto perso il clip di diamante perso tutto quello che avevo l'ossidiana l'ossidiana perso tutto meno male che non ti avevo dato l'armatura ma non è giusto cavolo sposo non l'hai sentito avvicinato no l'ho sentito fare ma stavo scavando mi stavo dando un po' di girarmi e ha già esploso perché ho detto vuoi vedere che adesso mi esplode un clip mentre sono nella lava ho pensato non pensare no non dove pensare niente mi dispiace basta vuoi farlo tu io volevo fare gli stivali quelli per la lunga caduta che potevano essere comodi ma una lava era uno segno terribile se non ci fosse stato il problema che c'era tutta la lava in quattro strati a questo l'ave finito peccato vabbè troveremo altri diamanti ma che ti devo dire provo a cercare in questa zona qui dove sono io eh sì ci sono due creeper laggiù quindi forse io spero che i creeper un giorno muoiano senti l'unica cosa da fare è cercare di farci un'armatura che rega la lava eh sì però non sarà facile e qual è? eh quella che ho cercato di fare nella prima eh buonanotte eh sarà un lavoro lunghissimo buonanotte e secchio io direi senti mi dispiace peccato per i diamanti peccato tutti gli oggetti che avevi e li riprenderemo avevi tanta tanta roba no per quello non tantissima ma un peccato però è un peccato si dispiace sempre però penso anche lo zaino vabbè comunque è pieno di creeper io veramente e hanno detto tutti che ha easy ma io mi chiedo chi è che l'abbia ristabilita sta cosa perché andava così bene prima si moriva anche prima non è da dire e poi se uno vuole giocare a easy porca miseria che sia easy sennò che divertimento c'è dico gioco a easy c'è dentro muoio sempre a che cosa devo giocare a peaceful per evitare di morire no uno dice ma lascia che poi si muore lo stesso non è che non si muoia appunto rifacciamoci qualcosa vuoi venire a venire in questa miniera qua eh prima bisogna mi rifornisca un attimo di roba vediamo un attimo scusami provami a fare il coso così scopriamo se il cosa il zaino io temo di no hai idea no no l'abbiamo uno uguale cosa ce l'abbiamo uguale gli zaini quindi teoricamente non avrebbe senso no no ma cosa c'entra anche la anche l'altra l'alchemic chest se ci pensi erano tutti uguali però ognuno ci vedrà no erano colorati si ho capito però magari funziona uguale ora provo che ci voleva la lana un chest veramente comunque ho trovato una grotta enorme per quel punto di vista io un giorno farò una bomba contro i creeper prima ho trovato scusa ma prima ho trovato una torcia no non mi trovo ma basta quanto c'è di cose verdi una cosa esagerata yuk aveva assolutamente ragione ha detto nella nuova versione fidatevi che dovete giocare a easy perché tanto gli sboroni che si divertono a morire ogni 2 secondi li trovi magari c'è gente quando moriamo si diverte anche però nel senso vedete prima abbiamo perso un sacco di livelli morendo però il problema è quello è la lava che dà fastidio non è non è nient'altro è solo la lava che dà fastidio o mi lagga capite è solo quello perché poi nella lava ci resti proprio un bischia per bene cioè ma tu muori subito nella lava non è da dire hai un minimo di chance muori è realistico se sei nella lava che muori però è fastidioso perdere tutti gli oggetti già un conto c'è il tempo il conto alla rovescia devi correre se no perdi tutto ha un bel po' di ferro in me meno male boh amore cerchiamo di fare la nostra casa a sto punto io adesso sto intanto mi sono fatta lo zaino no c'è la roba no scherzavo no ho perso tutto e vabbè era una prova e purtroppo vedete la EE aiutava troppo forse però aveva delle cose utili almeno l'Alchemic Chester lo rimettetero nella E3 non rimettete ormai ha detto che non rimettono un sacco di roba hanno tolto la Red Mat hanno tolto tutto non so perché vogliono farlo più più bilanciato facciamo più bilanciato secondo me bastava alla fine secondo me togliere le cose inutili cioè le cose che aiutavano troppo tipo l'Energy Condenser che anche se non facevi nulla ti dava lo stesso roba all'infinito togliete quello toglietelo lasciate solo che tu puoi magari bruciare la roba in cambio ti dà altro quello perché no dice non me ne faccio niente del carbone cioè la termutation quella roba tenete dice come per dire ho trovato un sacco di uranio non me ne faccio niente e lo butto via per dire se no alla fine quante cose uno ha che non se ne fa di nulla è comodo per quello invece di riciclatore non è male si per quello poteva essere una buona idea scavando a caso ho trovato una vedi io non l'ho mai usata la E2 fino a quel momento e per quanto posso farne a meno benissimo però aveva delle cose effettivamente utili quindi secondo me non era tanto meglio semplificarla esageratamente quando semplifici ma quanti guarda ce ne erano tre in uno spazio di zero maledetti veramente guarda questa è una caverna è gigante tra l'altro qua ci passa anche tra l'altro io spero che quel creeper un giorno muoiano tutti nel fuoco di morte terribile e truculenta sono tornato a livello 10 girando e scherzando sono tornato a livello niente vabbè prenderò un pochino di oggetti senti facciamo così tanto mi servirà anche un pochino di cobblestone anche tanto mi sa che per ora ci conviene farlo di cobblestone poi lo sistemeremo magari però mi sa che tanto un castello di cobblestone ha senso un castello giusto di cobblestone ma che bel castello di cobblestone scusa ma se io scrivo stone c'è qualcosa di particolare o se ci sono solo quelle stone no ci sono i brick c'è sta robetta qua c'è sta roba qua il maidstone di quello non lo so c'è anche il gravestone ma ce ne sono meno useremo il cobblestone dai comunque ok mi sono un po' riorganizzata si un pochino allora perché non viene ad aiutarmi a spalare magari poi fai usato in miniera perché in miniera però il momento ci sto lontana se non ti spiace si vengo a trovarti fai prendere del cibo e vengo ho capito qua dove sono tornato allora qua quasi quasi faccio un passaggio così velocifico a tornarci ok arrivo spianifichi un po' vengo ad aiutarti a fare quello che stai facendo e adesso sono giù in miniera ma se tu vuoi pianificare un po' mi fa piacere ti scorgi o ti raccatto un po' di roba no no tranquilla allora anche perché se non faccio io ti ah amore avremo la farm automatica poi la facciamo tutta bene io voglio fare un bel automatica per niente se mi canto non vado di accenderla no ragno dello schifo mi hai rovinato tutto usa la spada c'hai nel punto prima vedete vediamo un po' adesso ho tutto messo qua le cose qua quindi sono abbastanza comode ma buce ragno di mi 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 guarda mi ha distrutto mezzo campo sto schifoso maledetto da solo da solo io guarda il prossimo creeper che vedo me lo sbrano lo sbrano e poi lo inzuppo nella lava e me lo mangio comunque ho trovato un buon posto tra tra carbone ferro abbiamo trovato un sacco di cose buone quanti quasi mi metto a fare le pozioni guarda se non fosse che non ci possiamo permettere una cistola senti appena abbiamo una casa decente eh si grande bella eccetera la sistemiamo tutta ci facciamo i nostri macchinari anzi adesso dobbiamo farli quasi subito perché se no tutta sta roba qua ce la da uno solo si chiama macerator quello che serve si chiama macerator qual è questo quello normale si allora servono tre flint e un machine block eh bisogna cuocere del ferro il fine ed aron eh abbiamo del ferro affinato ci abbiamo un po' di ferro il fine ed aron eh no devi cuocere il ferro te l'ho detto eh cercavo quanto ne serviva di il fine ed aron eh un pochino quanto ferro hai con te cerca tutto il ferro che c'è c'è anche pezzi di cactus in giro comunque dovrebbe esserci un pochino di ferro ancora da cuocere credo sì appunto volevo fare il fine eh infatti quello ci conviene farlo prima possibile tanto ricordo che ci vorrà anche ah tanto però possiamo cuocere col generatore nel frattempo che riusciamo dato che hanno detto che i pannelli solari sono diventati difficilissimi partiamo magari anche da un tipico generatore giusto tanto il carbone ce l'abbiamo abbastanza anche con quello potenziato di keledan cioè che ci ha consigliato no no guarda se c'è da cuocere aspetta forse ci bastano sì poi controllo per l'altro per quello sotto ce ne serve ancora uno guardano in quello da cuocere rubber non abbiamo neanche un po' di rubber rubber qualcosina si può trovare comunque si va tra tutta l'armatura di smeraldo sì bravo bene un giretto in miniera fa piacere no non fa piacere fa anche ah beh a te è un altro discorso ok ok lo dovrei aver tolta tutta bene qua c'è uno zombie prima quindi immagino che non se ne sia andato troppo troppo lontano ciao zombie buongiorno immagini bene allora aspetta io volevo fare una cosa dica sto pensando uno shadow voglio rimettere a posto il mio povero zappatoio che quel ragno malefico e bagordo mi ha rovinato non ho il coso per prendere le api ma non importa guarda ti apo io ora sono infuriata al prossimo creeper che vedo me lo mangio in salsa di lava una volta mi farò una torta a forma di creeper tanto sono le rocchie quindi mi interessa il giusto una volta mi farò una cosa a forma di creeper apposta per mangiarla una torta fatta a creeper apposta per sbranarla guarda ahia oh avverti un'altra scelta siete gentili allora a questo non serve voi altri siete filosofali ma però non la stiamo neanche usando quindi quo che il diamante ce lo possiamo fare anche così nel peggiore dei casi usandoci dell'oro ok ferro hai ragione perché di oro ne abbiamo non sapere che farsene no però di certo qualcosa ce ne abbiamo allora diamante si quello si allora allora se tu avessi tolto i death point iniziali avrei tolto i death point quelli che lo ti togli allora sai almeno dove sei morta almeno possiamo ritrovare no non lo so ah si forse non l'ho tolto davvero l'ultimo non toglilo magari scappiamo dove possiamo trovare della buona non c'era niente di buono invece aveva un sacco di oggetti era tutta roba stupida e vabbè il Kiri Aore ci vorremmo Kiri Aore ci sono io dentro si sai che noia quando mi tiri fuori infastidisci diventerai una cosa terribile terribile la ok saliamo un sacco di coppia ci serve tutto un sacco di uova senti adesso aspetta un attimo che passi la notte sistema un po' le cose cosa volevi creare un maceratore si ma ci serve altro hai visto che c'è qualcosa già pronto no non ho guardato te l'avevo detto cosa stavi facendo ero uscita un secondo te l'avevo spiegato che stavo raccogliendo lì tranquillamente la mia roba quando questo ragno schifoso mi ha distrutto mezzo orto tu facessi i lavori normali invece di dare fastidio non c'è di mangiare hai ragione anche te che serve mangiare mangiati gli occhi di ragno a me non piacciono allora vediamo un po' vediamo un po' la bisogna trovare anche il maceratore il maceratore bisogna fare allora vediamo un po' guarda che bel posticino qui sotto faccio una bella spaccaturina che ci voglio andare allora fine nylon intanto mi faccio la pallina quella cosa quadrata le machine block il monazit ok machine block ora come ti faccio circuito maledetto mi serve la rubber che non ha la rubber non ce l'ho me ne servono quanti eh eh tanti ma in realtà te ne vengono parecchi con una basta basta guarda che c'è guarda se c'è il tricapitator lì dentro c'hai cinque già pronte di che di resine e il tricapitator non c'è ma te lo puoi creare ironingot quanti ce ne sono un pochini e lo cuoci quelli che è successo non lo so dove è andato non lo so bug quanti ne è già cotti dove è andato è stato nato dentro il il chest no si vede che sono spariti no qui ci servivano ma che stupidaggine è questa ma no ma non è possibile che razza di bug è stato 17 le abbiamo persi ma no che cattiveria assurda dai capisci che non è non è il massimo che cattiveria cioè la mia mano mi ha fatto paglia e lo so non è la prima volta che sparisce la roba ma 17 ne sono spariti eh non sarà divertente che secca dove me non è mai capitato eh che ti devo dire non è il ma è un po' buggata sta cosa non ci si può dire di no non si può certo dire di no guarda quanti creeper senti metterò a cuocere un po' di ferro di quell'altro sai che non riesco a bloccarlo no guarda creeper malefici l'ho bloccato io non li ammazzerò tutti uno ad uno oh è stato no no ma porca miseria ma come potevi pensare di è stata una bella prova dai fino a far forse ho perso il copp quanti ne abbiamo così soltanto 8 non è diamante quello lì no ne abbiamo soltanto 8 così però l'ho messa a cuocere 8 sì vabbè ma potrei mettere la cuocere tanto la gomma dove la metto la gomma come faccio a avere palline nere eh intanto mi sa che ti toccherà a cuocere dato che ci serve l'estrattore però a cuocile allora io più che altro cercherò di prendere ferro guarda che ce n'è abbastanza là e ovviamente nessuno spianifica se non ci penso io eh ragazzi sono a fare cose utili sono se utili tu guarda i creep cioè quanti ce ne sono si riguarda si ricreano prendi gli smeraldi sì volentieri quando vuoi si intende non distruggemeli non abbiamo flint davvero non abbiamo flint pure l'ho vista in giro eccola qua ho visto un creep io penso me li sognerò anche di notte i creep ormai bisogna li mangiarli ok allora finiamo di prendere questa gittina e poi andiamo via quanti ne abbiamo alla fine quindi di ferro 8 soltanto te ne servono 9 ne abbiamo persi 17 per stupidità hai guardato se ce ne sono da cuocere per l'ennesima volta e quanti ce ne sono ce ne ho messi a cuocere 8 di quelli lei da cuocere non li volevo cuocere tutti li volevo macerare ma te ne servono 9 in tutto di oro di ferro davvero 8 per la machine block e 1 per quell'altro e va bene le sono messe a cuocere 8 o 9 ma la machine block ce l'ho già ah ce l'hai già ah non l'ho mica vista ah meno male allora allora fa vedere questa cosa qui mi serve il circuito al circuito mi servono questi cosi qui mi serve il copper il copper ce l'ha bene serve troppa roba queste cose lo so e ci pensavo sempre io ora capisci quanti casini eh povero me povero gatto appunto allora mi serve del carbone sento che non mi venga un creeper subito allora prendiamo un pochino di carbone diciamone intanto 8 torce per ora basta coppa nel mezzo e gomma sopra e sotto si la torce andiamo di qua chiudila chiudila cua ok è enorme sta galleria che ho trovato è veramente enorme no non volevo cadere nessuno vuole cadere c'è un creeper da aspettare i creeper lo aspettano sempre con pazienza che tu gli cada tra le braccia che gentili vogliono solo un abbraccio ma è veramente gigantesco sto posto perché è illuminato lava non voglio saperlo veramente cioè voglio solo si lava 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 io me ne vado di qui non ho alcun motivo di stare qui dopo tutto no nessuno basta un mob qualunque che mi colpisca male muoio e sinceramente non mi va magari ci sono anche dei diamanti proprio lì sotto ma non ho un secchio però non avendo un secchio non ho anche il mio secchio naturalmente non avendo un secchio preferisco lasciar stare comunque dato che questa zona è interessante la chiamerò interessante ok beh allora io me ne vado di qua per sicurezza e cerco adesso di tornare a casa con l'ultimo piccone rimasto diciamo ecco sempre una cosa rassicurante da sapere comunque ho preso dove avrei preso ecco l'ultimo piccone dove avrei preso in macerator davvero sì e dove lo metto eh dovrei fare un generatore se non è un generatore non sappiamo come fare guarda il bagno arrivo ok allora no non è vero vado a cuocermi un creeper arrosto allora ora penso che si possa anche tramutare la l'energia della build craft in energia per la industrial craft però non mi ricordo se lo può fare di base usando i golden qualcosa del genere questa roba qua oppure se ci voglia da fare altre cose quindi giusto per faremo un generatore non penso sia impossibile da fare generatore no dai impossibile non è faremo giusto un generatore tanto di carbone ce l'abbiamo quindi non ci dovrebbero essere grossi problemi allora prendiamoci ancora un pochino e torniamo verso casuccia tanto questa enorme galleria qui è tutta sotto il nostro territorio yeee la 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 prendiamo tutto il carbone del mondo la 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 quello non serviva non era carbone ma servirà la cobblestone guarda che posti assurdi io però voglio tornare verso casa direi che sono caduto da lì sensatamente ricordandomi quindi ah malefico ok lasciami shadow minimum ok torniamo su prendiamoci anche questo già che ci siamo e andiamoci la ok via torniamo a casuccia 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 torniamo a casuccia la 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 ok prendiamoci il ferro che qua serve tutto il ferro possibile la preso ce n'è altro nascosto qualcosa no non c'è nulla peccato torniamo certo che si spavano tanti di quei mob direi che di qua non ci sono andato ok allora dov'è l'uscita potevo anche segnarmelo un minimino vorrebbe un po' di salmo di creepa da bere ma che gentilezza grazie figurati allora io non so dove sono entrato proviamo di qua allora dalla mappetta un'idea ce l'ho ah si no no non sono entrato di qua però perché comunque da questa è da questi lati quindi anche se non era di qua un generatore mi devo fare ti tocca in realtà forse ci sono generator si forse ci sono anche altri sistemi però in mancanza di devo fare una batteria si quando la fa una batteria devi mettere ci serve non c'è scritto è perché è baggato ci serve della tin della redstone e un cavetto di copper ce l'hai cavetti di copper? no neanche uno e ti tocca rifarli cerca di vai a prendere ti serve il treat up? no aspetta vediamo se c'è qualcosa cavetti di copper vediamo un po' qual potrei provare anche ad uscire dall'Eternad Village che mi ricordo che ci aveva un una specie di passaggio gallerioso però dove sarà? no non ho paura potrebbe finirmi il piccone potrebbe finirmi il piccone e non mi ricordo però dove sono uscito accidenti però siamo molto vicini all'Eternad Village cavetti sono quella stupidaggine che avevi visto che ho visto prima? si il generatore guarda quanti oggetti come si facevano i cavetti l'ho dimenticato con tre copper in centrale e tutto il resto roba grazie allora io direi di provare ad andare verso l'alto tanto l'alto dovrebbe essere verso 60 e qualcosa quindi scaviamoci una galleria lo so che rompo però cos'altro devo fare lo so cavetti di gomma ok ora devi mettere in alto il cavetto però devi metterci sotto due di redstone e la tin ai lati se non hanno cambiato il crafting no la tin eh te l'ho detto la tin allora non abbiamo tin siamo pieni di tin ma dove? è quella lì quella sinistra comunque ho preso un sacco di farvi vedere un pochino i risultati finali ok ho quasi uno stack intero di iron che grazie al maceratore diventeranno praticamente due e questo fa sempre molto piacere e la batteria come la carico? come la batteria non serve carica no 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 ho trovato del ferro per sbagli anche io ho trovato del ferro prima va bene ho preso uno stack e più dai iron furnas non ho l'iron furnas la devi creare non ho iron non hai più iron no zero no te ne basterebbe cinque pezzi dove ti trovo cinque pezzi perché cinque perché cinque perché se fai una fornaccia normale te ne bastano cinque come sarebbe a dire fai una fornaccia normale ecco vedete ho trovato proprio il punto che volevo è quello da cui si dice dal villaggio le testificate vediamo vediamo test testiniera testiniera mi faccio una quella di quelle di roccia eh quella di pietra mi faccio se oh non è una dove mi sono già bloccato una volta in sto posto allora dov'è che sono sbucato tra l'altro sono già dimenticato qui eccoci qua sono riuscito a tornare all'uscita yeee facciamo negli altri tutto questo ferro perso bastano cinque comunque vabbè ormai vabbè allora torniamo verso casa e cerchiamo di tornare lì siamo abbastanza amici qua c'è un complesso minerario molto bello sotto casa almeno quello dai almeno almeno quello la nostra nuova casa magari anche sotto la vecchia c'è di bello comunque è l'unica cosa positiva di minecraft che per me hanno aumentato che brutto c'è un zombie testifiche vediamo un po' d'acqua prego me l'apri la bottiglia grazie subito subito secondo grazie allora vai grazie amore prego allora siamo tornati qua hanno fatto qualcosa di buono no non ho lasciato ah aia brutto rincretinito andato a male comunque basta un pochino in miniera i livelli si fanno subito nel senso più andato a male di così amore è morto ok peccato non stia facendo nulla di buono allora vediamo se ha lavorato questo qui giù vediamo per me sembra che non abbia fatto assolutamente come la faccio l'iron furnas eh così no sopra quello centrale aia iron furnas ok io direi che questo qua ha fatto però vedete sta è andato un attimo in sovraccarico ma perché va meno non mi non perché quando uno le prova per i fatti suoi in creative in una mappa a parte funziona adesso non funziona più nulla vabbè mi ha spianificato un pochino ho fatto il generatore yeee come li metto dove li metto come li metto perché li metto qui allora mettili eh non lo so prova a metterli anche boh anche al piano sopra se vuoi a casa in camera nostra tanto bisogna sistemare mettili lì si vai metti il generatore e fai lasciare uno spazio qui e mettici quello ok in mezzo mettici un cavetto di questi si ok si può fare anche diversamente ma un sistema ok ora prendi della coven è quello più chiaro si ok esatto prendine mettine tipo vediamo se funziona torna su vai no metto dall'altro mettici non mettine o meno ok dovrà funzionare ok e ci metto il il affrello perfetto a posto il maceratore no finalmente metterò a macerare un po' di roba questo qua teoricamente dovrebbe non funzionare più comunque dato che quello che sta facendo è inutile lo blocco ok vedete qua se diventa arancione vuol dire che non sta facendo quello che dovrebbe fare o che si vergogna ma cosa vuol dire cosa vuol dire questa temperatura così mamma mia è tutto buggato ma il buggato eppure l'ho provato con lo stesso pacchetto in single player possibile che li vada ecco quando è verde come qua vuol dire che funziona perfettamente teoricamente vuol dire che funziona ed è raffreddato al meglio quando è la prima arancione vuol dire che invece funziona ma non come dovrebbe perché si sta su riscaldando se è rosso vuol dire attenzione esplode e se diventa blu vuol dire che è molto freddo non sta funzionando al massimo o l'avete appena accesa benissimo tutte cose che qualcuno di voi che conosce bene la build che assaggia ma in generale queste api rocky qui sono veramente cioè l'inutilità fatta ape che cosa le drone si infatti ok siamo appena di marble modest di marble di meadows ma ne sono due forest ma le forest ce ne ho un pochino io qui non le butto nella lava la 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 senti dato che ho provato con la farm si un pochino aiuta ma alla fine non così come si potrebbe sperare ci saranno dei sistemi migliori qualcuno magari ce l'aveva già consigliati non è che non li stiamo ascoltando ma noi siamo delle caprette di montagna in pianura e come tali siamo lenti allora andiamo a poggiare anche la mia robetta che ho preso la siamo pieni di animali sai troppi animali la no non voglio aprire per chiudermi la porta in faccia su via